Una giornata interessante durante la quale i carabinieri racconteranno ai giovani studenti il loro lavoro. Tanti ospiti! E poi Cristina Cabotto ed io. E ovviamente non poteva mancare lo spigliatissimo generale dei carabinieri Stefanizzi. Paola Brambilla del WWF ci ha parlato del rispetto per gli animali e l'ambiente. Insieme ai carabinieri Rosanna Lambertucci, Fabio Campoli e Carlo Cracco abbiamo capito l'importanza del mangiare sano senza taroccare i prodotti. La squadra di tiro dei carabinieri ha spiegato poi ai ragazzi l'importanza e il valore dello sport. E' arrivato poi il NAS. Con loro abbiamo visto come è possibile scovare le sostanze illegali. E' persino giunto tra noi il ministro delle politiche agricole, l'onorevole Martina. Ed ecco i veri CSI, i celebri RIS di Parma. Il mio collega Nicola Porro ha spiegato le insidie del web e del cyberbullismo. E infine è arrivata l'unità cinofile dei carabinieri con un amico a quattro zampe ed ha l'olfatto molto speciale. Cigliagina sulla torta, l'amico dei ragazzi, Rovazzi! Insomma amici è stata una giornata meravigliosa in compagnia dei miei amici carabinieri e soprattutto dei tanti ragazzi che hanno partecipato con grande entusiasmo. Vi aspetto alla prossima! Ciao a tutti! Ma questi giovani di oggi no! Però...